Ciao a tutti, benvenuti in questo canale video. Sono Aici, il mio nome italiano è Angelo. Sono uno dei Tutto di Square eCommerce. Per chi è la prima volta che guarda questo canale video vi voglio spiegare cosa potresti trovare in questo canale. Square eCommerce si occupa di tutti gli aspetti legati al mondo dei business online, in particolare la parte che riguarda eCommerce. L'obiettivo è di educare più persone a comprendere e a sviluppare il proprio business online di eCommerce. Per partire bene con eCommerce hai bisogno di fare più processi di ricerca prodotti e di ricerca fornitori. L'obiettivo di una buona ricerca di prodotti e di fornitori è di trovare un mercato nuovo da espandere. E quello poi di ridurre il rischio di insuccesso con analisi dettagliate e poi ridurre i problemi di fornitura che sappiamo bene possono causare problemi e danni irreparabili. Oggi vi voglio condividere la mia ricerca di Alibaba sfruttando una nuova funzione di Helium Time. Ora siamo sulla pagina principale di italian.alibaba.com. Facciamo una ricerca attraverso le categorie e le proposte di Alibaba. Andando sulle categorie vediamo tantissime categorie elencate. Allora macchinari, veicoli e accessori non ci interessa, elettronica di consumo. Magari possiamo fare un video dedicato solo a questo perché c'è tanta argomento dietro. Elettro domestici non mi dispiacerebbe affrontarlo perché immaginate che noi siamoci contatti da elettrodomestici e soprattutto ci ha reso la vita più semplice, più facile svolgendo dei lavori che dovevamo fare manualmente. Quindi potrebbe anche essere un'idea quello di affrontare la categoria di elettrodomestici. Sono andato poi su piccoli elettrodomestici da cucina perché secondo me portarsi dietro a casa diciamo un prodotto molto grande potrebbe essere difficile da affrontare poi per vendita online. A livello logistica bisogna essere bravi. Quindi affrontiamo piccoli elettrodomestici da cucina. Ora sto leggendo sigeranti per alimenti sotto vuoto interessante come l'idea friggitrice ad aria. Questo letteralmente è esploso su Amazon come la categoria. È interessante comunque però vorrevo qualcosa di particolare. Ad esempio griglie elettriche e piastre elettriche. Perché ho scelto questo? Fondamentalmente per due motivi. Io adoro cucinare e nella cucina una delle cose difficili è sapere cucinare la carne. E questo diciamo per cui sto molto attento a prodotti come questi. E per questo la scelta mia è di questa categoria perché è legato alla passione che ho. Quando voi fate le scelte potete partire da una categoria che vi piace di più e facendo come vi ho fatto video ora sempre più in dettaglio andate in sotto categoria dove si trovano prodotti interessanti. Ok ora vi faccio vedere cosa possiamo fare con Helion Tem. Allora innanzitutto scegliamo la parola chiave. In questo caso scegliamo griglie elettriche. Copiamo, incolliamo e facciamo la ricerca. Una volta fatta la ricerca andiamo su Helion Tem e da qui lanciamo analisi. Ok abbiamo diverse parole chiave. Griglia elettrica, griglia elettrica senza fumo, piastra elettrica per grigliare, griglia elettrica barbecue. Notate qua che abbiamo l'elenco di section volume e i prodotti che competono. Ah da notare ad esempio nella sezione di griglia elettrica senza fumo abbiamo una ricerca più bassa però numero di prodotti che competono sono più basse e nei piastra elettrica per grigliare abbiamo una ricerca più bassa e la competizione più bassa. Ok andiamo a vedere questa lista. Facciamo search for keyword list. Aspettiamo che viene caricato il software. Con questa lista possiamo capire meglio se questa categoria fa nostro caso o meno. quindi la competitività, le ricerche, i prodotti, le leccensioni, fatturato della categoria, tante cose. Adesso andiamo a vedere. Per chi non sa usare Helion Tem consiglio di vedere i video precedenti che avevo fatto appositamente per spiegarvi che cosa è il strumento Helion Tem. Ora vediamo griglia elettrica senza fumo. eccolo qua che è quello che ci interessa. Andiamo a aprire su Amazon. Vediamo tantissimi prodotti. Ora analizziamo con X-Ray di Helion Tem e guardiamo un attimo i dati come vengono. Innanzitutto notiamo che c'è un 11.351 di section volume come detto in precedenza. Abbiamo una media di leccensione di 457 con prezzo medio di 76,72 e con ricavo medio di 8.149 di fatturato. Interessante come categoria. Ovviamente dobbiamo vederlo più in dettaglio. Allora vediamo qualcosa. Allora qua nella scelta di prodotti se non sapete come si può affrontarlo vi consiglio di guardare il video dove ho spiegato anche questo aspetto qua. Quindi discorso sulle ecensioni, discorso sul prodotto, discorso di analisi del prodotto. Ok. Qua vedo tanti diversi prodotti interessanti. Torniamo su Alibaba. Ora guardiamo un attimo quello che sembra molto vicino alla liceca ottenuto su Amazon. Quindi i prodotti ottenuti da questa liceca andiamo a confrontarlo con Alibaba. Ok. Un prodotto di questo genere. Vediamo. Ok. Questo ad esempio che è fatto con tavoletta di legno. Sembrerebbe tavoletta di legno di intorno. Potrebbe attirare molto l'attenzione in un mercato di questo tipo dove tutti gli altri hanno un prodotto standard diciamo. Non vedo un prodotto particolarmente che mi cattura l'occhio. Invece il prodotto che abbiamo visto qua potrebbe essere un prodotto diciamo che cattura l'occhio dall'estetica. Questo potrebbe essere un elemento differenziante in questo caso. Ovviamente ne scegliamo un paio da questa lista. Ad esempio anche questo è particolare come prodotto. Di tutti questi prodotti che stiamo guardando dovete salvargli una lista a parte. Quindi salvargli tra i preferiti e poi verificare che prezzo per questi singoli prodotti possiamo ottenere. Quale è la qualità? Quali sono le garanzie? E se il funitore ha certificati? Diverse cose bisogna farlo in questo step. Come idea di prodotto io personalmente piace molto perché è un prodotto in cui si usa a casa. Che ti facilita la vita. Soprattutto è legato anche poi alla bravura della persona che sa cucinare. E magari da lì si può nascere qualcosa di interessante. Ok allora andiamo a vedere in dettaglio diverse cose. Allora questo abbiamo già detto. Poi questo qua è molto diverso. Ne ha due prese. Eccolo qua. Lo si vede da qua. Ne ha due prese. Quindi permette di controllare due piastre. Vediamo che qua ci sono elencati i certificati. Ovviamente è da verificare i certificati. Dall'aspetto si presenta molto bene. Poi guardando anche foto della pagina prodotto su Alibaba. Mi viene da dire che comunque non è un prodotto diciamo scarso. Mi fa venire in mente diciamo un prodotto di qualità. Questi sono dettagli che sono importanti. Ok? Tipo di materiale. Tutte queste cose sono importanti. Bisogna andare a vedere. E poi ovviamente i C è qua. Che bisognerebbe verificare. Ok. Come funitore. Ad esempio qua avete i dati del funitore. Che dovete confrontare con altri funitore. Per verificare. Nel senso ad esempio qua. Abbiamo un quattro anni di esperienza nel settore. Commerciare su Alibaba. Abbiamo diciamo. Negli ultimi sei mesi. Sono stati fatti 230.000 dollari. E su 118 transazioni. Sono questi dati importanti da confrontare tra un funitore e l'altro. Ovviamente. Ora andiamo a vedere su Alibaba. E cerchiamo magari un modello che sta già vendendo. Che noi potremmo migliorare. Ok. Quello che noi abbiamo visto. Ad esempio. È qualcosa che qua sopra non c'è. Sia di quel contorno fatto in legno. Come precedentemente dicevo. Sia di. Del prodotto con doppia spina. Ecco. Quello che abbiamo visto. Ad esempio. Molto simile a questo. Questo prodotto qua. Che è con controllo della temperatura. Questo prodotto qua. È proposto a 58.98 euro. Ok. Vediamo un attimo. Quanto sta vendendo. Ok. Non c'è tanto. Quindi vuoi dire che come prodotto. Forse. Vediamo qualche altro prodotto simile. Sempre di questo. Che così possiamo avere un'idea migliore. Di questo settore qua. Sempre anche questo. In questo caso qua. Vediamo quanto è. Questo è più piccolo. Di quello che abbiamo visto. Vediamo com'è. Questo prodotto qua. Ok. 18 pezzi. Amici. No. Non sono prodotti. Vediamo. La intera categoria. In questo caso qua. Vediamo subito. Quali sono prodotti. Che stanno vendendo maggiormente. E cerchiamo di capire. Se c'è. Del spazio. Ecco. Allora. Questo prodotto qua. Che è molto simile. A quello che abbiamo visto. Tranne che è una piastra sola. Questo sta vendendo a 99,99. Venduto e spedito da Amazon. Tantronde. Ok. Come prodotto. Da qua. Riusciamo a vedere che tipologia. Cioè. Griglia in acciaio. Preferiscono. Colore nero. Questo è il peso dell'articolo. Ovviamente. Venduto da Amazon. C'è anche questa. Influenza. Diciamo. Diciamo. Della Amazon. Però. Entrando in questa pagina. Possiamo vedere prodotti simili. A questo prodotto qua. Che noi possiamo andare a considerare. Ad esempio. Come questo. Che è un prodotto. In cui ha ottenuto. Amazon choice. Per griglia elettrica. Per cucinare. Ok. Questo è molto simile. Al prodotto che abbiamo visto in precedenza. È sempre una piastra. Ok. Il prezzo è un. Prima era 46,99. Adesso è 35,99. Ovviamente. Dobbiamo. Tenere conto. Di questi dati qua. Quindi. Magari. Prezzi troppo alti. Non riusciamo ad andare. Sicuramente. Dobbiamo fare un conteggio giusto. E quindi. Tenere in considerazione. Come dire. I costi di spedizione. I costi della dogana. I costi di FBA. Amazon. E da lì. Sottrarre tutti questi costi. E vedere poi. Effettivamente. La parte della marginalità. Però come prodotto. Potrebbe essere. Un'idea. Questa idea. Diciamo. Di provare. Su un settore. Come quello di. Elettrodomestici. Se volete. Vedere un video. Dove faccio i confronti. Di fornitore. Di prodotti. Fatemi sapere. Nei commenti. Qua. Come vi ho spiegato. La categoria. Interessante. I prodotti. Sono interessanti. L'elemento differenziante. Può esserci. Però ovviamente. Tutto questo. Richiede. Uno studio. E analisi. Approfondita. Del mercato. Oggi. Abbiamo visto. La funzione. Dei source. Su Alibaba. Che. E' veramente interessante. Se avete domande. Mettete tra i commenti. Se vi è piaciuto questo video. Mettete un like. E iscrivetevi. A nostro canale YouTube. E accendete. Il campanellino. Per ricevere. Prossimi aggiornamenti. Sui prossimi video. Ci vediamo. Al prossimo video. Il campanellino. 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 Grazie a tutti.